ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di due curiosità dall'antico egitto la prima è il test di gravidanza che facevano le donne circa 3600 anni fa e la seconda riguarda il nilometro il misuratore delle acque del nilo che prevedeva il raccolto che ci sarebbe stato durante l'anno scopriamole insieme i moderni test per verificare lo stato di gravidanza consentono a una donna di conoscere la propria condizione grazie alla reazione chimica dell'urina che conferma o smentisce la presenza di un particolare ormone la gonadotropina corionica presente solo nelle donne incinte 3600 anni fa nell'antico egitto le donne facevano qualcosa di simile urinavano in un sacchetto d'orzo e un sacchetto di farro e poi attendevano gli sviluppi ovviamente non si trattava di un test in grado di restituire una risposta in qualche minuto ma entro qualche giorno si potevano conoscere i risultati dell'esperimento autore dell'ultimo studio sull'argomento è kim riolt egittologo di fama mondiale a capo della sezione dei papiri kalsberg presso l'università di copenhagen che afferma se cresce l'orzo è un maschio se cresce il farro è una femmina se nell'orzo nel farro davano segni di germogli il test veniva considerato negativo questo antico metodo era già stato studiato dagli storici della medicina ma presso l'università danese si è recentemente completata la traduzione dei geroglifici che confermano le ipotesi precedenti ma in fin dei conti il test era davvero efficace sembra incredibile a dirsi ma secondo il national institute of earth statunitense uno studio del ventesimo secolo ha confermato le ipotesi delle antiche donne egizie il test aveva un'accuratezza del 70 per cento ovviamente però non era in grado di identificare il sesso del nascituro il successo del test sarebbe da imputare agli alti livelli di estrogeni che potevano stimolare con facilità la crescita dei semi oltre al test di gravidanza il papiro oggetto di studio comprende anche alcuni trattamenti per le malattie degli occhi in un'intervista alla cnn riolta affermato i testi sono danneggiati scritti in un antico linguaggio leggibile da pochissimi e la terminologia impiegata è immensamente complessa i papiri medici egizi sono molto rari e questa nuova traduzione potrebbe essere una pietra miliare anche per le altre scritture una delle ricercatrici del progetto sophie sciott ha dichiarato molte delle idee contenute nei testi medici dell'antico egitto appaiono di nuovo in testi greci e romani in seguito sono stati ripresi nei testi medici medievali del medio oriente per poi giungere sino alla medicina premoderna il test di gravidanza empirico influenzò tutta la scienza medica successiva e menzione del metodo si trova anche in un libro di folclore tedesco del diciassettesimo secolo l'urina era considerata fondamentale per comprendere lo stato di salute delle persone e in un altro testo del 1553 si legge l'urina in gravidanza è chiara come il colore del limone pallido che versa sul bianco sporco con una nuvola sulla sua superficie altri test empirici comprendevano la miscelazione di vino e urina aspettando reazioni chimiche che indicassero o meno lo stato interessante l'ultima curiosità riguardo la collezione dei papiri karlsberg è che questa comprende circa 1400 manoscritti la maggior parte dei quali risalgono al periodo che va dal 2000 avanti cristo al 1000 dopo cristo la stragrande maggioranza di questi testi non era stata tradotta sino alla donazione all'università di copenhagen nel 1939 ogni estate i fiumi inondano il nilo l'acqua straripa dai suoi argini e in alcuni punti crea delle piane alluvionali durante l'antico egitto il nilometro era lo strumento utilizzato dalle istituzioni per misurare il livello delle acque ma anche e soprattutto per prevedere quanto avrebbero reso le coltivazioni d'egitto qualcosa di assimilabile al moderno concetto di redditometro di nilometro ne furono costruiti diversi e i due più famosi sono quelli dell'isola elefantina ad Aswan e quello presso l'isola di Roda al Cairo le strutture potevano essere delle semplici scale gradinate oppure degli interi edifici con dei gradini all'interno sovente gli indicatori del livello del nilo erano custoditi in templi e l'accesso alle strutture riservato ai sacerdoti nonostante la parola redditometro a oggi abbia un'accezione certamente negativa nella società egiziana a prevedere l'andamento dei raccolti si rivelava di fondamentale importanza per organizzare le provviste durante l'anno se il livello delle acque del nilo si rivelava essere basso i raccolti sarebbero certamente stati insufficiente al mantenimento della popolazione egiziana e quindi la politica doveva organizzarsi per tempo con i commerci internazionali se invece il nilo si fosse rivelato troppo carico d'acqua avrebbe allagato i campi ottenendo l'effetto di distruggere le coltivazioni e la politica avrebbe dovuto ingegnarsi contro le carestie per ottenere un raccolto sicuro il nilo doveva mantenersi entro una certa soglia superiore e inferiore in modo da irrigare i campi in modo equilibrato lo strumento si rivelò tanto efficace che rimase in uso sino al ventesimo secolo quando il governo egiziano aiutato dall'unione sovietica e grazie agli introiti derivanti dal canale di Suez costruì la diga di Aswan nel 1970 che mitigò in modo decisivo i livelli del fiume Nilo Grazie a tutti